Il signor Marziano, nome di battesimo, ma fanese doc, per un singolare ed involontario caso della vita, abita in via degli astronauti nel quartiere di Sant'Orso. Ora, per uno che si chiama Marziano, abitare nella strada degli astronauti potrebbe essere una cosa anche divertente, se non che in quella via a fondo cieco, che finisce contro quella che era la ben nota tratta ferroviaria Fanurbino, c'è un problema in alcune stagioni dell'anno di invasione e proliferazioni di esseri poco invitanti e raccomandabili. No, nulla a che fare con provenenze extraterrestri, come simpaticamente verrebbe da pensare ed augurarsi presenze molto più terrestri dei terrestri, talmente terrestri che strisciano e camminano a pochi centimetri dal suolo, sono neri o grigi e non fanno una gran bella impressione. Ebbene, se avete capito bene, il problema del signor Marziano sono topi, pantegane e bisce se va bene, se non vipere nei casi più pericolosi. Se era proprietà mia, a me mi facevano la multa, la dovevo pulire. Siccome ho il comune, ho lo Stato, chi è? Qualcuno deve intervenire a fare queste cose. Perché c'è una questione di pulizia, avete bisce, topi? Sì, tutti qui, se lamentano tutti. Sono stato io il primo adesso a intervenire per vedere qualcuno, non si muove nessuno qui. E quest'estate, dicevano, qualche bisce in casa? Là davanti al garage ho tutte le bisce, quest'estate. Un paio di volte, lì vengo da casa, lì è stata stesa sul sole, stava lì, non è una cosa giusta che deve stare così per via di colpa che uno non pulisce. E qui se lamentano un po' tutti? Tutti se lamentano, tutti. Il signor Marziano, non disponendo di potenti raggi laser o tecnologie avanzatissime, ma di semplici badili e vang, ce la mette tutta per fare la sua parte, del resto sono stati i suoi strumenti di lavoro fino a quando è stato in attività, ripulendo e togliendo erbacce quotidianamente da buon frontista, come mostrano le rotaie in bella vista davanti alla sua abitazione. Ma non è che può permettersi di ripulire tutto il tratto confinante con le abitazioni da solo. Lì sì che ci vorrebbe il capitano Kirch e l'Enterprise. pertanto, se fosse possibile, non chiede altro che chi di dovere faccia il suo di dovere per la salute e l'igiene pubblica. Vorrebbero che si mettessero... Qualcuno che si muesse, chi è che è? Io non so chi è le competenze che deve fare questo lavoro. Qualcuno sarà, perché la mia non è. Però tutta la linea è sporca. Eh, andando su io penso che fino a Urbino ci sarà qualche pezzo come faccio io, qualcuno che pulisce e qualcuno la lascia così. Non va bene? Io non è che posso pulire fino vicino a casa, sono costretto a pulirlo per eliminare un po' di queste bestiacce. Quindi meglio che qualcuno venga? Eh, che sia qualcuno che prenda provvedimento per questo lavoro. Io dopo non so chi è competente.